Non mi resta che rivolgermi purtroppo all'autorità giudiziaria, cosa che non ho mai fatto perché nello svolgimento delle funzioni politiche penso che non si debba sostanzialmente ricorrere all'autorità giudiziaria. E' pronto a rivolgersi alla procura il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Paolucci infatti fu il promotore della legge approvata a dicembre all'unanimità che impone la trasparenza degli atti amministrativi. Le delibere infatti sia quelle attuali che quelle degli anni scorsi dovrebbero rimanere disponibili. Questo è fondamentale per poter esercitare il nostro ruolo e non solo in opposizione, ha spiegato il consigliere regionale. Questa legge è stata rispettata? No, mi è sembrato addirittura un atto straordinario che si dovesse arrivare addirittura alla pubblicazione, al licenziamento di una legge, tutto sommato scontata, ovvero che gli atti pubblici vanno pubblicati sia quelli di giunta sia quelli delle asle abruzzesi. Così non è, siamo stati costretti a quella norma e tuttora non viene rispettata. Ormai per esempio sulla sanità sono quasi 40 giorni che ho chiesto l'accesso a delle carte molto significative sulla programmazione dell'edilizia sanitaria e sui tavoli di monitoraggio non mi arriva nulla. L'accesso agli atti mediamente a tempi di certo non brevi può trascorrere anche più di un mese prima di poter visionare i documenti richiesti. Se la mia domanda di trasparenza dovesse rimanere inascoltata, ha detto Paolucci, mi rivolgerò all'autorità giudiziaria.